Benvenuto, benvenuta. Come va? Guarda la statua. Com'è? È forte o è fragile? Ti sembra impassibile o partecipe? Hai in mano una torcia, puoi accenderla. Illumina le altre persone presenti. Prova a farti un'idea di quante persone sono qui con te. Poi sposta la luce sulla statua. Adesso fermati. Apri gli occhi, ma non dire niente. Shhh. Adesso fa parlare il silenzio. Quello che vedi ti fa venire in mente la parola salvezza. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore e ci resterà.